Buongiorno, benvenuti alla segna di oggi, domenica 7 maggio. Come tutti sapete questa sera ci sono le elezioni francesi per la scelta del Presidente della Repubblica francese e poi ci sarà la diretta di Matrix speciale questa sera alle 23.30 per fare il punto su quello che è successo in Francia e sulla probabile, oggi tutti la danno per scontata, vittoria di Emmanuel Macron. Cosa c'è oggi sui giornali riguardo a questa competizione elettorale così importante? Il titolo è piuttosto generico, Francia al voto, uno dei commenti più interessanti poi andremo sulla ciccia, quella che mi piace a me per far polemica, è Spence, Michael Spence sul Sole 24 Ore che dice che non basta Macron a salvare l'Europa. È abbastanza interessante l'analisi di Michael Spence perché dice sostanzialmente che Macron come tutti gli altri partiti francesi, Mélenchon che hanno avuto un certo successo, Le Pen, sono tutti partiti anti-establishment, se volete non è così inedita questa analisi, però la cosa fondamentale che dice l'economista sul Sole 24 Ore è che non pensate che con Macron si salvi l'Europa perché la pulsione anti-europea è fortissima. Divertente il titolo del manifesto, sperando non sia femmina, nel senso se devi fare l'anti-Le Pen almeno il manifesto lo fa con la sua consueta ironia, ma la cosa che oggi i giornali inseguono è questi famosi hacker russi, si presume, che avrebbero rubato le mail di Macron e sulle quali in realtà c'è poco sui giornali. Quello che c'è è che Macron ha denunciato il fatto che gli sono stati hackerati le sue mail. Come voi sapete questa è una storia che è avvenuta anche negli Stati Uniti. Però vi voglio leggere come i giornali italiani, soprattutto il Corriere della Sera, mettono in riferimento le mail rubate a Macron e la signora Le Pen. Non basta dire ai giornali italiani che Le Pen è una ultradestra, razzista, xenofoba, antisemita, c'era tutti i colori anti-euro-euro, le cose peggiori del mondo le fa. Ma non basta tutto ciò, non basta dire che con grande probabilità perde perché tutti i giornali oggi dicono che avrà il 60% Macron. Staremo a vedere perché fino a quando i voti non sono espressi dai cittadini non si sa nulla. Ma la cosa straordinaria è come su questa email si costruiscono le fake news non da parte della rete ma da parte dei giornali blasonati italiani. Io vi leggo uno tra i tanti corrispondenze e vi faccio vedere proprio tecnicamente cosa succede e poi mi dite cosa ne pensate voi. Sugli hacker al lavoro, come scrive il Corriere della Sera, sugli hacker al lavoro, il pezzo lo scrive Stefano Montefiori con una corrispondenza da Parigi, dice sembra una mossa disperata del fronte nazionale, sembra una mossa disperata, questa dell'hackeraggio di Macron, una mossa disperata del fronte nazionale. dopo cinque righe, dopo due righe più in giù, lo stesso Montefiori prima dice sembra una mossa disperata del fronte nazionale, quindi mettendo un condizionale, posto che non ci sono prove, non c'è una frase, non c'è un niente, poi magari ci sarà nel futuro, ma oggi non c'è nulla. Abbiamo già detto che il fronte nazionale ha rubato le mail a Macron, sembra una mossa disperata del fronte nazionale. Dopo due righe il giornalista corrispondente da Parigi dice l'opera di disinformazione del fronte nazionale prevede poi, quindi da una parte si mette il condizionale e poi si mette invece la certezza, l'opera di disinformazione del fronte nazionale prevede poi. Allora io mi chiedo, siamo così sicuri che l'ha rubata il fronte nazionale e perché prima mettiamo il condizionale e poi mettiamo una certezza, un indicativo, un imperativo sul fatto che il fronte nazionale ha rubato queste mail? A me va bene tutto, vinca Macron, ma se addirittura noi riusciamo a non avere, come posso dire, un'apertura nel poter mettere un punto di domanda, sì può essere stato rubato anche dalla Russia, dai servizi segreti russi, dagli hacker normali, ma come si fa a costruire un teorema come quello che ha costruito oggi il Corriere come gli altri? Vabbè, stasera vedremo chi avrà vinto. L'altra grande notizia della giornata è Fabio Fazio, ieri nell'inutile incontro di Dogliani dove si vedono solo tra di loro, si intervistano tra di loro una specie di circolo verdure del Piemonte organizzato dall'ingegner De Benedetti, un uomo naturalmente liberale in posizioni editoriali, Fazio piagnucola, si mette a piangere e intervistato da Aldo Grasso dice ricevo insulti a scuola sui miei guadagni, lui guadagna 1.800.000 euro all'anno dalla Rai e da quando è stata imposta la questione del tetto, che poi in realtà è stata cancellata, ha iniziato a piagnucolare su tutti i giornali che non potrà più lavorare il Rai, io penso che lui si meriti i soldi che guadagna, tutti si meritano i soldi che guadagnano in genere e Fazio fa un programma che ha buoni ascolti e quindi non vedo perché non se li debba guadagnare, ma l'idea di questo vittimismo di Fazio che da vent'anni guadagna 2 milioni di euro e che gli hanno costruito programmi dietro all'altro, Fazio in realtà è l'unico protetto dall'attuale, non uscere della Rai, ma direttore generale, amministratore delegato che si chiama come sapete Conte Mascetti, anche se questi due, quando Fazio dice quando vado a scuola mi dicono vergognati dei soldi che guadagni, sapete quando va a scuola qua a Milano cosa succede? Fazio si siede in una classe con il Conte Mascetti, cioè con l'amministratore delegato della Rai e parlano del futuro della Rai, ma lo fanno da mesi, cioè uno si mette a piagnucolare quando continua a prendere questi soldi, quando il suo migliore confidente l'amministratore delegato, lo stesso amministratore delegato che ha fatto fuori me, che ha fatto fuori Giannini, che ha fatto fuori Politics, che ha fatto fuori la Berlinguer, che ha fatto fuori una marea delle persone, lui piagnucola perché prende un milione e otto e perché dice non ho mai visto tante ingerenze in questa televisione, che però gli sta pagando lo stipendio da vent'anni, insomma a me viene veramente da ridere, cioè se vuoi andare e venire a Mediaset, io penso che tratterai con Mediaset e saranno ben felici di prenderti oppure alla 7, ma non c'è bisogno di piagnucolare quando c'hai l'amministratore delegato amico tuo e vabbè, insomma l'avete capita come la penso su questa vicenda, il piagnucolamento di Fazio è da far ridere e oggi Repubblica ha preso un tema che eppure Repubblica molto onestamente ha combattuto e per la quale battaglia ha fatto grandi, grandi, grandi campagne giornalistiche, cioè le unioni civili, 2800 sono state fatte fino ad oggi, praticamente in un anno di unioni civili, cioè abbiamo chiuso il Parlamento, abbiamo fatto una guerra di religione per 2800 coppie, c'è Repubblica, dice anche questo è avvenuto perché non c'è la step child adoption, cioè l'adozione da parte delle coppie gay dei loro figli, ma la cosa stupenda è che questa grande battaglia epocale di cui tutti i giornali hanno parlato, di cui il Parlamento si è bloccato mentre il Paese stava andando da tutt'altra parte, era per 2800 coppie, sembra una cosa normale, a me sembra semplicemente la misura dell'incapacità del Parlamento di capire che cosa avvenga veramente nella realtà. A proposito di coppie, molto bello oggi la storia della madre surrogata, cioè una madre che ha utilizzato il suo corpo per far venire alla luce un figlio di un'altra persona, che dice non vi fate prendere in giro, noi lo facciamo per soldi e vi racconto che inferno è quello delle madri surrogate. A proposito di medicina e cose vicine, oggi sulla categoria diciamo critica nei confronti del pensiero unico sui vaccini c'è Stefano Lorenzetto, grande scrittore oggi sulla verità, che dice, in cui parla del fatto che intanto i giornali veneti parlano tutti della manifestazione in piazza a Treviso per il medico radiato, ma anche Lorenzetto prende le parti di questo medico radiato, cioè Lorenzetto dice io sono a favore dei vaccini, pensate ho dato 10 a Burioni, poi racconta un aneddoto molto divertente sul grande guru contro i vaccini, a favore dei vaccini, perché io l'avevo pure detto di fare un libro, li avevo messo in contatto con Marsilio, lui ha fatto il libro e senza neanche dirmi nulla l'ha fatto per un altro caso di trice, insomma questioni tra di loro, ma la cosa che dice fantastica Lorenzetto è io sono a favore dei vaccini, ho fatto vaccinare chiunque, però vi racconto storie di effetti collaterali che i vaccini hanno e secondo me i medici che vengono radiati è un po' troppo, vabbè insomma questa vicenda come avete capito non si ferma soltanto ai 5 Stelle e al fatto, ma anche a Lorenzetto e alla verità di Belpietro. Ultima cosa che mi diverte segnalare dal Corriere Veneto, l'apertura del Corriere Veneto è tutta sul consigliere del Movimento 5 Stelle che nel suo hotel a Vicenza ha ospidato 150 profughi e ovviamente potete immaginare che è successo un gran casino all'interno del Movimento e lo stesso Di Maio lo ha redarguito. 9 minuti e 43, siamo di domenica, questa sera ci sono le elezioni, i risultati delle elezioni francesi, in questo momento si sta votando, noi saremo in diretta su Matrix, avrò un'aria forse un po' meno casual, mi farò la barba e noi ci vediamo questa sera, mi raccomando, cercate di esserci. Se poi avete ancora un po' di tempo, sono le 10.42, in edicola, in tutte le edicole italiane, le grandi edicole italiane ci sono, in tutte le edicole italiane c'è il giornale con allegato il mio libro che si chiama La disuguaglianza fa bene, quindi ho completato il panorama della mia pubblicità questa sera Matrix e questa mattina andate in edicola e chi di voi volesse si compri il giornale con allegato il La disuguaglianza fa bene con un prezzo più basso rispetto a quello che ha il libro in libreria. Un grande saluto, ciao a tutti quanti voi e buona domenica.